Un pregiudicato è stato trovato in possesso a bordo della sua auto di una pistola Revolver Caribo 38 e di Crack. Il 38enne è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia agli ordini del comandante Luca Geminale. L'operazione è scattata dopo un controllo su strada quando l'uomo è stato fermato dai carabinieri. I militari hanno compreso il tentativo del pregiudicato di nascondere sotto il sedile dell'autovettura la pistola. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire anche le munizioni ed un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Crack. Condotte in caserma al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto al carcere di Forne.